E' arrivata la decisione del Tribunale Fallimentare, una decisione attesa da tutti? Sì, attesa da tutti, ci stiamo scaricando la tensione, siamo felici, adesso aspettiamo, ora cominciamo a lavorare per il futuro. Qual è il primo commento a caldo? Che aria si respira? No, guarda, io non so che dire, mi sono venute talmente tante emozioni nella giornata che, non lo so, finalmente possiamo pensare ad altro, al calcio e far pensare altre cose ad altri. Ecco, da domani, anzi da oggi, insomma, si inizia un nuovo percorso, che percorso sarà? Allora, per prima cosa bisogna pagare gli stipendi entro domani, che è una cosa fondamentale. Quindi dobbiamo provvedere a versare i soldi nel conto del curatore e a fare tutte le operazioni necessarie perché questo avvenga entro domani. E dopo, da domani, ci penseranno i curatori. E con l'impegno però in questi ultimi mesi, giorni, l'orgoglio amarante è stato tanto? Eh sì, abbiamo fatto un po' di, abbiamo trascurato un po' le famiglie, il lavoro e ci siamo dedicati a questa cosa qui, però adesso siamo abbastanza soddisfatti e emozionati. Ci viene uguale le lacrime, però siamo contenti. Adesso speriamo che vada tutto in porto, tutto come deve andare. Noi siamo pronti, siamo a disposizione del curatore, se ha bisogno, quindi niente, siamo pronti. Che spirito si scenderà in campo adesso? Eh, questo non lo puoi dire a me, io non scendo in campo. Io ti posso dire che finalmente si potrà iniziare a vedere un po' di calcio giocato perché è quello che ci manca a tutti. Io ho bisogno degli spalti, della curva, dei miei amici in curva, io ho bisogno di staccare un po' da questa cosa che ci ha un po' provato, siamo tutti un po' provati. Almeno noi del comitato siamo tutti abbastanza provati. Insomma è un po' di settimane che si aspetta che gli amaranto tornino in campo. Sì, è un po' di settimane che si aspetta, finalmente c'è questa possibilità, speriamo bene, siamo tutti felici per questo.